Se Luca e Soli fanno Temptation si lasciano, ragazzi non auguriamo queste cose a loro, anzi io spero stiano insieme, tutta la vita. Ceci, anche tu esami all'Uni? Sì. Ciao, il sorriso di Nicole. Non sembra un po' la Madonna con questa luce? Devo fare il caffè. Ti vogliamo sul trono. Ti vogliamo sul trono, ragazzi, direi che sì, tra tre mesi si lasciano, ma perché dovete dire così? No, no, non si devono lasciare, andiamo a augurare che siano insieme tutta la vita. Sì, è bellissima, grazie. Comunque, che ore sono? Sette e un quarto, quasi. Sassara cosa fate? Uscite? Niente, ragazzi, tutte lingue strane, io non capisco. Io sono andata al mare, ma giuramelo, che figata, di dove sei? Andrei sul trono? No, ragazzi, non andrò sul trono. Nulla a casa, domani esco, brava. Cosa fai stasera? Vado a mangiare fuori con la mia migliore amica? E poi, andremo a ballare. Andrei sul trono ancora. Non penso, ragazzi, proprio di no. Ciao, Ceci. Eh, lo so, dei capelli imbarazzanti. Luca e sorelle per sempre. Approvo. Ciao, Greta. Mai stata ad Arezzo? No. Ciao, mi saluti. Ciao, Kelly. Ciao, Agatha, tutto il mondo. Ma quanto sei bella, sei struccata. Sì, infatti faccio cagare. Comunque, la mia migliore amica è colei che è venuta alla scelta, Camilla. Millinzi si chiama. Dai amo, ti vogliamo sul trono, dai amo. Carina che siete. Ciao, Monia. Volevo dirvi che Alex, agli Nolfi, sta parlando male di me nella sua diretta a Formentera. e quando raggiungerò a Formentera anche io, lo prenderò a schiaffi. Come Luca e sorelle si sono lasciati per caso, non penso. Verrai a Lecco? A Lecco, non penso. Ti aspetto al Samsara. Sì, ragazzi, vengo a Gallipoli il 22 giugno e sicuramente sarò al Samsara. Comunque, niente, ragazzi. Io, in questo momento, andrei a farmi la doccia, così, perlomeno, mi muovo. Allora, volevo dire una cosa a tutti quelli che mi insultano, che se non vi piacciono, c'è anche la cosa per uscire dalla diretta, ok? Perché a me frega niente. Tutti al cacao. Infatti, stasera andrò al cacao. Quindi, chiunque venisse al cacao, ci salutiamo. Ma che cazzo ti sei calata? Il caffè. Ah, che male che ho. Comunque, vi saluto. Vi mando un bacino e ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao.